Aumenta la nostra fede. Infatti Cristo un paio di volte chiama i suoi discepoli gente di poca fede. Per esempio Matteo capitolo 6, Matteo 8, 16, 17 e a Pietro addirittura nel capitolo 14 uomo di poca fede. Ogni volta il motivo è praticamente lo stesso. Non si sono ancora affidati a Cristo. Non si sono consegnati. Ancora reagiscono in conseguenza di un pensiero che è mosso praticamente da una volontà attaccata a loro stessi. Cioè si già intuisce bene che la fede riguarda tutta la persona e che fino a quando non si libera la volontà dal contenuto di un io fragile, vulnerabile, preoccupato per sé, la fede non sarà mai una cosa seria, ma sarà una forma culturale, sociale, un atteggiamento religioso, devozionista, ma certamente fino a quando non si libera la volontà di questo contenuto di sé stessi, la fede non sarà l'accoglienza di Cristo come la mia stessa vita, Cristo che vive in me e che il mio io si innesta nell'io filiale di Cristo. Questa volta nel Dierno Vangelo, proprio due o tre versetti prima, Cristo parla di perdonare. Al fratello si chiede perdono anche sette volte al giorno, cioè praticamente sempre vuol dire questo. Il perdono è l'espressione concreta della misericordia, è la sua realizzazione nella storia, cioè la misericordia si realizza nella storia come perdono. Dio si riconosce per la sua misericordia. Dio dei padri, cioè Dio della nostra storia, della nostra discendenza, Dio come custode delle persone, è signore della misericordia. Così dice Sapienza 9.1. E Dio si rivolge proprio a tutta l'umanità, a tutte le donne, a tutti gli uomini, a tutti i bambini di tutta la storia con la sua misericordia. Così testimonia Paolo nella lettera ai Romani 11.32. Proprio tutti sono soggetto della misericordia di Dio. Dio si rivolge a tutti con la sua misericordia. Questo è il modo di relazionarsi di Dio verso gli uomini. Perciò è Padre misericordioso, è Dio di ogni consolazione, secondo Corinzi 1.3. Non solo Padre, ma Padre misericordioso. È Dio, non Dio di cui si ha paura e si nasconde, ma Dio di ogni consolazione. Pietro stesso si stupisce che doveva perdonare sette volte al giorno. Gli sembrava troppo impossibile. E Cristo gli dice no, infatti non si tratta di sette volte, ma di settanta volte sette. Settanta volte sette. Matteo 18.21.22. Perciò vediamo che il problema è veramente la fede e nella relazione con il perdono. Però proprio Pietro imparerà misericordia solo attraverso le lacrime che gli ha fatto scendere lo sguardo di Cristo, che dal primo piano dove era il processo contro Cristo, Cristo si voltò dentro il cortile e guardò Pietro, che davanti a una serva rinegava il Signore. Così testimonia Luca 22.61. In questo sguardo Pietro sperimenta perdono. La sua nudità, il suo crolo, il suo io crolato, i suoi giuramenti sono tutti finiti, ma lo sguardo di Cristo rigenera Pietro nuovo. Infatti dopo di che abbiamo quasi una nuova edizione di Pietro. Allora attraverso il perdono si giunge a una vita nuova. Pietro diventa un uomo nuovo dopo quelle lacrime, dopo quel sguardo. Perdono vuol dire passare come dono il dono che io ho ricevuto. Mi è stato donato un nuovo stato di essere, una nuova condizione di esistenza al posto del male, del peccato che pesa, del rancore, della rabbia, dell'egoismo, della preoccupazione per sé. Al posto di questa roba io sperimento benevolenza. Ma l'importante è che al posto di me, come solo, come isolato, mi trovo unito, stretto, anzi una parte di colui che mi dona questo nuovo stato di esistenza. Se non avviene questo, non ho ancora vissuto la misericordia e non conosco Dio della misericordia. abbiamo un esempio drammatico nella parabola che Cristo racconta, per esempio, Matteo 18, 21, 35, dove un uomo a cui è stato condonato diecimila talenti tratta male un uomo che gli doveva cento denari. Provate a pensare, un talento corrispondeva a diecimila denari e lui ha vissuto un perdono di diecimila talenti e adesso non riesce a perdonare e condonare cento denari. Allora, ecco, la fede vuol dire accogliere il dono gratuitamente, come Paolo insiste ai Romani 3, 24, e che davvero come tante volte ripete lui, affinché nessuno si possa vantare davanti a Dio. E allora non si può avere pretese dei meriti propri. E non si può avere pretese e aspettative riguardo di se stessi, come come quell'uomo che non poteva condonare cento denari. E nel perdonare questi si rivela subito che è veramente perdonato. E proprio immediatamente, se uno perdona veramente, immediatamente si rivela che ha sperimentato perdono, che è misericordioso perché ha sperimentato la relazione con Dio misericordioso. Altrimenti come si capisce? Siate misericordiosi come Dio e misericordioso vostro padre. Diventa subito un comandamento, di nuovo un impegno di Dio che vuole dimostrarsi. Invece no. E proprio solo chi perdona manifesta davvero che non c'ha aspettative per sé e non c'ha pretese. Proprio così come chi si mette nel servire. Chi si mette a servire e lo fa semplicemente per amore non ha pretese. Ma difatti non è semplice servire tutto il giorno e non avere pretese e richieste per sé stessi. Ma proprio questo è la fede. La fede opera nella carità, dice Paolo Galati 5.6. Cioè la fede si riconosce perché mette l'uomo, innesta l'uomo in un'azione, in un agire che è la carità, che è l'amore. Solo chi sta nell'amore, cioè chi ama i fratelli, conosce veramente Dio. Dice Giovanni nella sua prima lettera 4.7. Anzi, nello stesso posto dice chi ama i fratelli è stato generato da Dio. Allora ecco la fede. E accogliere la vita nuova che ci abilita gratuitamente a servizio gli uni degli altri. Galati 5.13. Paolo VI diceva, insegnava, che l'amore e la carità sono intrinsechi alla fede. La fede è la rinascita dell'io che si riconosce in relazione, in comunione con gli altri perché è generato nella vita secondo la comunione delle persone divine. Immersi nella vita divina nella vita come comunione del Padre e del Figlio dello Spirito Santo e non si è più soggetti del io che vuole usare anche Dio e gli altri e il mondo per se stesso. Grazie a tutti.